pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica ci propone la guarigione di un sordo muto è un episodio molto importante con un profondo significato simbolico capace di parlare alla nostra vita cerchiamo di capirne il significato quindi vediamo tre passaggi importanti dell'itinerario di guarigione di quest'uomo gesù si trova in terra pagana e gli viene portato un sordo muto meglio un sordo balbuziente quest'uomo come spesso accade nel vangelo rappresenta la condizione del suo popolo in questo caso dei pagani dunque di coloro che non potevano ascoltare la parola di dio e proclamarla in fondo egli rappresenta la nostra condizione costitutiva noi nasciamo in una condizione ferita di separazione da dio il peccato originale abbiamo bisogno di essere raggiunti dal signore di incontrare lui per essere salvati perché i nostri sensi spirituali siano guariti perché possiamo aprirci a lui perché possiamo udire e comprendere la sua parola e proclamare le sue opere il suo amore non a caso se ci pensate il sacramento del battesimo si conclude proprio con il rito delle fatà il sacerdote segna la croce sulle orecchie e le labbra del battezzato e dice il signore ti conceda presto di ascoltare la sua parola e di professare la fede ma questo fratello sordo muto è anche simbolo di una persona menomata nella sua capacità comunicativa che quindi ha difficoltà ad ascoltare a dialogare a relazionarsi vedete le difficoltà che riguardano la nostra comunicazione toccano le nostre relazioni tante volte proprio perché si ammala la nostra comunicazione si deteriorano le nostre relazioni e viceversa basti pensare a quante coppie scoppiano perché non si dialoga non si riesce più a comunicare quando si ammalano le nostre comunicazioni e quindi le nostre relazioni siamo costretti all'isolamento e spesso ci rinchiudiamo in noi stessi nelle nostre mormorazioni assolutizziamo la nostra lettura dei fatti e arriviamo persino a confondere la realtà con ciò che invece abbiamo soltanto dentro la nostra testa andando più nello specifico quante volte fatichiamo proprio ad ascoltare gli altri e a dialogare a dire cose profonde concrete che tocchino il cuore anzitutto si fa fatica ad ascoltare tante volte siamo presi da noi stessi un altro parla e noi casomai pensiamo già quel che dobbiamo rispondere oppure la persona cerca di dirci qualcosa ma ci scivola tutto addosso banalizziamo giudichiamo subito quel che l'altro ci dice in quante famiglie vige un silenzio tombale quanti matrimoni infranti quanti figli perduti nelle nostre case quando forse sarebbe bastato soltanto ascoltare un po di più a ragione bonhoeffer ha detto che il primo servizio che dobbiamo rendere ai fratelli è quello dell'ascolto chi non sa ascoltare il proprio fratello presto non saprà ascoltare neppure dio sarà sempre lui a parlare anche con il signore ricordo un uomo il cui matrimonio era in crisi che andò dal suo padre spirituale a chiedere consiglio e il padre gli disse devi imparare ad ascoltare tua moglie l'uomo prese a cuore questo consiglio e tornò dopo un mese per dire che le cose andavano meglio e il padre gli disse sorridendo ora torna a casa e ascolta anche ogni parola che tua moglie non dice cioè vai in profondità impara veramente ad ascoltare l'altro e i suoi bisogni non solo a volte fatichiamo di conseguenza a parlare fatichiamo a comunicare a tirar fuori ciò che abbiamo dentro ciò che viviamo a a dire parole significative a dire parole capaci di toccare il cuore di indirizzare di istruire ecco il vangelo di questa domenica ci consegna proprio quest'opera del signore che viene a guarire i sensi di quest'uomo a guarire la sua capacità di relazione d'altronde che cos'è l'esperienza della fede se non l'esperienza di una relazione che ci apre che ci tira fuori dal nostro isolamento e chiusura una fede che non ci aiuta ad aprirci a dio e agli altri ma che favorisce le nostre chiusure e il nostro isolamento dagli altri non è vera fede in gesù cristo la cartina al tornasole della nostra fede è proprio la qualità delle relazioni che viviamo si vede che davvero stiamo seguendo il signore perché impariamo ad aprirci agli altri perché impariamo a vivere relazioni significative belle con gli altri proviamo a fare ora un passo avanti cioè vediamo tre passaggi dell'itinerario di guarigione di quest'uomo innanzitutto gesù lo porta in disparte questo cosa ci dice che per essere guariti nella nostra capacità relazionale abbiamo bisogno di essere portati fuori dalla nostra routine cioè se continuiamo a fare sempre le stesse cose se siamo ingolfati in 1500 attività e siamo sempre di corsa sarà difficile che impariamo ad ascoltare dio e gli altri noi abbiamo bisogno di lasciarci portare fuori da questo ingorgo questo praticamente significherà ritagliarsi quello spazio per la preghiera personale o familiare per meditare il vangelo del giorno per frequentare la santa messa insomma ritagliarsi degli spazi per la cura del nostro rapporto con dio ma questo vale anche per la relazione con gli altri miei cari ritagliarsi degli spazi e dei momenti speciali per stare con la moglie con il marito con i figli per condividere qualcosa con i confratelli con le consorelle a cominciare da quei momenti importanti come il mangiare insieme lo stare a tavola senza né tv né telefoni ecco la cura della relazione lasciarsi tirar fuori da quell'ingorgo di attività che a volte soffoca la nostra anima e le nostre relazioni il secondo passaggio miei cari è il contatto reale gesù compie dei gesti particolari mette le dita nelle orecchie del sordo muto e la saliva sulla sua bocca a noi suonano un po' strani ma erano gesti molto concreti e la saliva a quel tempo era considerata un elemento curativo dunque gesù lo tocca con una concretezza estrema dita e saliva esattamente nel suo problema orecchie e lingua cosa può dirci tutto questo che la guarigione avviene nell'intimità con il signore nel contatto reale con lui è questo che ci aiuta a passare da una condizione di chiusura a una condizione di apertura e questo contatto avviene in sommo grado proprio nella celebrazione dei sacramenti pensate ad esempio alla liturgia eucaristica nella messa dio mette le sue dita nelle nostre orecchie cioè ascoltiamo le sue opere mediante testi biblici e pone sulle nostre labbra la sua presenza il suo corpo l'eucaristia ma è interessante anche notare che non è scontato che questo sordo muto si lasci toccare da gesù come a dire noi per guarire abbiamo bisogno che dio possa realmente mettere mano laddove siamo feriti laddove siamo più malati questo cosa vuol dire lasciarci operare dalla sua parola questo vorrà dire non aver paura di lasciarsi mettere in discussione vorrà dire aprirsi e consegnare i nostri peccati nel sacramento della riconciliazione vorrà dire avere l'umiltà di lasciarci accompagnare spiritualmente aprendogli il nostro cuore lasciandoci anche contraddire anche correggere insomma non aver paura di tirar fuori ciò che non va per lasciarci raggiungere dalla parola e dalla presenza di gesù e questa concretezza c'è chiesta anche nella relazione con gli altri perché gesù ci parla ci raggiunge ci tocca anche attraverso gli altri per crescere abbiamo bisogno che gli altri mettano le dita sulle nostre debolezze cioè ci correggano ci aiutino a vedere ciò che non va la cosa peggiore è non voler ammettere ciò che non va e non saper chiedere aiuto e essere incapaci di chiedere perdono per i propri errori insomma essere trincerati rinchiusi in se stessi rendersi intoccabili toccabili e refrattari a ogni possibile cura a ogni possibile aiuto a ogni possibile strumento di crescita per questo ci farà bene chiederci ma io mi lascio toccare dal signore mi lascio raggiungere dalla sua parola mi lascio correggere dagli altri sono aperto e disponibile a vedere e lavorare su ciò che in me stesso non va infine miei cari gesù dopo aver portato in disparte quest'uomo averlo toccato alza lo sguardo verso il cielo sospira e in aramaico dice effatà cioè apriti penso che questa parola vada davvero incisa nel nostro cuore sempre di nuovo abbiamo bisogno di lasciarla risuonare in noi perché la nostra tendenza è quella di ripiegarci su noi stessi di chiuderci nei nostri silenzi di trincerarci nelle nostre mormorazioni di serrarci dietro i nostri bronci e passano giorni e giorni senza che parliamo al coniuge senza che ci rivolgiamo al confratello alla consorella e passano giorni e giorni così chiusi nei sepolcri dei nostri silenzi ecco il signore viene a dirci apriti fai tu il primo passo non aspettare che siano sempre gli altri a venirti incontro disse un bravo vescovo chi ama di più fa sempre il primo passo apriti non lasciare che il sole tramonti sulla tua ira dice san paolo cioè non lasciare che la giornata passi senza esserti chiarito con tua moglie con tuo marito con quella persona apriti come si apre una porta all'amato apriti come il bocciolo di un fiore toccato dai raggi del sole mattutino apriti sei fatto per la vita sei fatto per spandere bellezza cari fratelli e sorelle che questo testo che questo incontro che questa parola possa davvero aiutarci che ciascuno di noi possa davvero lasciarsi salvare dalle sue egoistiche malattie comunicative dalle sue incapacità relazionali e aprirsi sempre più a dio e agli altri siamo fatti per la relazione siamo fatti per essere amati e per amare siamo fatti per diffondere attorno a noi il buon profumo della vita santa di gesù non temiamo allora di lasciarci portare in disparte da lui di lasciarci toccare da lui e di aprirci per diffondere attorno a noi quell'amore che per primo ci raggiunge sempre e di nuovo che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti